Ben tornati al nostro appuntamento qui su Rete8. Oggi parleremo dell'assegno sociale. L'assegno sociale è una prestazione economica erogata a domanda a quelli che sono i cittadini in condizioni economiche disagiate, che abbiano quindi dei redditi inferiori a quelli che sono previsti annualmente dalla legge. Vediamo a quali cittadini spetta. Devono avere residenza effettiva e abituale in Italia, 10 anni di permanenza continuativa sul territorio italiano, permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti lungo periodo e redditi personali del coniuge nell'anno di riferimento inferiore al limite previsto dalla legge, che poi vedremo nelle prossime slide. L'importo nell'anno 2019 è pari a 458 Euro mensili per 13 mensilità. Per il 2019 il nuovo limite di reddito è fissato a 5.954 Euro annuali per i singoli, che si elevano a 11.908 se il soggetto è coniugato. Se il reddito si pone al di sotto di queste soglie, l'importo viene ridotto. Cosa importante, nel 2019 è aumentato il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale. Per l'anno 2019 si deve attendere il compimento dei 67 anni. Il precedente limite, che era 66 anni e 7 mesi, è stato ulteriormente incrementato di 5 mesi per l'adeguamento all'aspettativa di vita. Cosa importante che dobbiamo sottolineare sull'assegno sociale è che è una prestazione che spetta esclusivamente per i residenti in Italia. Quindi se i cittadini che hanno conseguito l'assegno sociale si allontanano dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 30 giorni, la prestazione viene sospesa. Grazie e vi rimando alla prossima puntata.